buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di antena 2 giornata primaverile quella odierna questo per merito dell'espansione di un anticiclone anche di matrice calda con temperature molto miti anche nella giornata di domani infatti vedete proprio l'aria calda che verrà spinta proprio dalle azzorre in direzione della francia della svizzera e del nord italia mentre una circolazione depressionaria che un'aria più fredda si trova proprio sul nord africa e un'altra ancora molto più fredda nella zona dei balcani noi nelle prossime ore saremo ancora interessati da questo vasto anticiclone una cupola proprio di stabilità atmosferica con precipitazioni molto lontane dal nostro territorio infatti vedete come le perturbazioni atlantiche sono costrette proprio ad andare verso le isole britanniche per poi allontanarsi verso la scandinavia quindi ancora un periodo molto secco per il nostro territorio dico purtroppo perché nella primavera devono cadere importanti e significative nevicate sui nostri territori orobici perché sono garanzia poi di acqua per il periodo estivo quindi ancora un'anomalia ancora una forte preoccupazione proprio per la mancanza di precipitazioni un po su tutto il comparto alpino settentrionali vediamo un po come la settimana prossima ancora avremo un'interazione di aria più fresca ecco cambierà un pochino lo scenario sul territorio europeo infatti questo anticiclone si ritirerà proprio sulla spagna e sulla francia mentre arriveranno delle correnti più fredde orientali pilotate da questa circolazione depressionaria che farà arrivare dell'aria più fredda proprio in direzione della nostra catena alpina e prealpina centro orientale però avremo ancora carenza di precipitazioni non sono previste ancora precipitazioni neppure per la settimana prossima a meno un po di instabilità atmosferica nella giornata di lunedì caleranno le temperature significativamente a partire dalla giornata di lunedì ma tenderà a esserci ancora sole per diversi giorni evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede un tempo caratterizzato dal cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ormai non si contano più le domeniche col bel tempo sul nostro territorio perturbazioni molto lontane zero termico che schizzerà oltre 3000 metri quindi pensate un po no zero termico che lo si incontra nel periodo di giugno non certo nel periodo di marzo temperature che si avvicineranno ai 20 gradi anche sull'alto piano di clusone pensate a 1500 metri altitudine avremo temperature sopra i 10 gradi andrà molto bene anche nella zona medio bassa valle seriana lago di seo e valle camonica dove splenderà il sole per l'intera giornata andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in valle seriana ho indicato lunedì una tendenza un cambiamento seppur parziale temporaneo del tempo infatti avremo della instabilità che ci raggiungerà proprio la sera arriveranno delle nuvole qualche occasionale scroscio di piogge qualche occasionale fiocco di neve oltre 1400 metri di altitudine proprio per l'ingresso di queste correnti più fredde che andranno a contrastare con quest'area più umite e quindi determineranno queste nuvole e queste questa diciamo instabilità atmosferica ma durerà poco perché già nella giornata di martedì risplenderà il sole sul nostro territorio però farà decisamente più freddo vedete temperature minime a clusone che si riporteranno sotto gli zero gradi meno uno meno due gradi e massime che non saranno più 20 gradi ma torneranno a scendere e saranno intorno ai 13 14 gradi mercoledì e giovedì continuerà a esserci questo tipo di tempo in prevalenza soleggiato secco con ventilazione orientale quindi ancora con colonina di mercurio che si manterrà compresa fra i meno due gradi di minima clusone i 12 13 gradi di massima niente di rilevante neppure per il prossimo fine settimana vedete ancora venerdì caratterizzato dal bel tempo con uno zero termico in rialza 2300 metri di altitudine e probabilmente anche il prossimo fine settimana sarà caratterizzato ancora dal bel tempo e da questo clima estremamente secco anomalo per i nostri territori soprattutto in primavera e per il mese è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su antenna 2